This is Vitek Tape, show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. This is Vitek Tape, indie music from Tavern di Corciano to the world. This is Vitek Tape, indie music from Tavern di Corciano to the world. This is Vitek Tape, indie music from Tavern di Corciano to the world. This is Vitek Tape, indie music from Tavern di Corciano to the world. I'm losing time. This is Vitek Tape, indie music from Tavern di Corciano to the world. I follow the voices telling me. Vitek Tape, indie music from Tavern di Corciano to the world. This is Vitek Tape, indie music from Tavern di Corciano to the world. This is Vitek Tape, indie music from Tavern di Corciano to the world. Walt Miles, H. The Walkman, nato il 3 gennaio 1995 e un musicista di St. Louis, Missouri. Il brano Dash è tratto dall'album Near, rilasciato su Bandcamp a inizio 2016. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti